a tutti una buona giornata amici benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 9 febbraio 2022 una giornata che inizia con l'alzar del sole alle 7 e 14 il sole poi tramonterà alle 17 e 30 ebbene in questo periodo ne accadranno di tutti i colori come ne sono accadute ieri vediamo appunto le notizie del giorno però prima diamo un'occhiata al calendario ecclesiastico per vedere il santo del giorno oggi si festeggia Santa Polonia Santa Polonia anche lei martire festeggiamo tanti martiri in questi giorni periti durante le persecuzioni attuate dagli imperatori romani a Polonia morì sotto la persecuzione di Decio Cristiana fin da piccola aiutò i suoi confratelli perseguitati dalle guardie dell'imperatore anche lei arrestata fu torturata e ovviamente in questo caso le torture sono le più terribili le più drammatiche a Polonia ad a Polonia le furono strappati tutti i denti poi fu condannata al rogo e lei stessa per dimostrare la saldezza della sua fede si gettò tra le fiamme e in nessun momento rinunciò appunto alla sua attestazione di fiducia nei confronti del cristianesimo il tempo il tempo giriamo pagina e vediamo le condizioni atmosferiche il tempo oggi è stabile sulle marche con cieli sereni il clima emite con temperature massime fino a 14 gradi venti deboli ai più moderati da sud ovest sui crinali e le temperature varieranno dai 3 gradi per quanto riguarda la minima ai 10 gradi 14 anche sulla costa per quanto riguarda la massima ciò detto vediamo subito le notizie sui quotidiani questa mattina a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che sia il Corriere che il resto del Calino lo vedremo dopo e vi aprono la pagina con lo sciopero degli studenti che si è svolto nella mattinata di ieri una manifestazione in piazza 20 settembre ne sono stati protagonisti tutti gli studenti delle scuole superiori fanesi quelli delle classi più alte ovviamente quelli che si accingono a sostenere gli esami di maturità il liceo classico il liceo scientifico l'Apolloni il Polo 3 sono gli studenti appunto delle ultime classi in piazza contro la seconda prova scritta immaturandi per il covid c'è precarietà ovvero contestano le decisioni del governo di inserire nell'esame di stato la seconda prova scritta come se tutto fosse tornato alla normalità non è così hanno detto gli studenti noi ci portiamo dietro il peso degli ultimi tre anni di precarietà didattica di alternanza tra la dad e la didattica in presenza certo questo non ha giovato alla nostra preparazione deve essere un esame che tenga conto appunto di quello che è accaduto in questi ultimi tempi gli studenti contestano la mala gestione della scuola per le carenze didattiche e gli effetti psicologici ovviamente anche gli effetti psicologici hanno avuto il loro peso ansie timori preoccupazioni hanno influito molto sulla formazione degli studenti e veniamo alle altre notizie vediamo che ora sono i sindaci a contestare i sindacati perché hanno protestato sul piano sociale reazioni di disappunto dei sindaci del ambito numero 6 di Fano comportamenti irresponsabili e strumentali hanno definito appunto quello dei sindacati e veniamo e veniamo la questione del rifiuti e dell'aset una pagina ancora quasi un'intera pagina viene dedicata a questo problema dal Corriere Adriatico si parla di un terzo modo di eseguire la raccolta dei rifiuti quello di costituire un'azienda speciale i partiti si devono pronunciare per quanto riguarda sia i rifiuti la gestione idrica è il forum per i beni comuni che lancia questa proposta indica l'obiettivo per il 2028 no alla fusione tra aset azienda capitale totalmente pubblica e marche multiservizi società mista amministrata da un partner privato lo sappiamo tutti quale era e no anche alla partecipazione di aset alle gare provinciali dei servizi con il partner industriale scelto per costruire il biodigestore insomma c'è una terza via no alla fusione non ai partner ebbene la terza via è quello di costituire un'azienda speciale e già nei giorni scorsi la consigliere regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle aveva così spinto le amministrazioni a far sì che ci sia un affidamento diretto dei servizi se questo sarà possibile secondo la normativa corrente e ancora la Ruggeri la vediamo in quest'articolo di spalla sul Corriere Adriatico Ruggeri del Movimento 5 Stelle ora si appella ad Acquaroli perché interventa contro il DDL concorrenza anche questo è un problema da risolvere mentre sembra risolto secondo l'assessore regionale Stefano Aguzzi il problema della manutenzione del fiume Metauro l'assessore dice mantenuti gli impegni nove mesi per eseguire i lavori ebbene per l'intervento di sistemazione degli argini di questo importante corso d'acqua nel tratto compreso tra la foce e l'autostrada l'assessore regionale sottolinea di aver rispettato l'impegno assunto nella conferenza stampa che c'è stata un anno fa a Fano e di portare avanti con celerità tutte le procedure per arrivare prima possibile all'inizio dei lavori lavori che dureranno nove mesi e saranno avviati entro questo mese di febbraio dunque la sistemazione degli argini verrà fatta in maniera concreta e stabile lo studio per dare giustizia al dolore ecco le ragioni dell'orrore delle foibe questo è l'articolo che riguarda la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Fano che si è svolta nel pomeriggio di ieri online era di turno a relazionare sul problema delle foibe di tutti i problemi, di tutti i disagi, di tutti i drammi che hanno caratterizzato le persone che abitavano nell'Istria ai tempi di Tito ed è stato Simonelli, lo storico Federico Carlo Simonelli che ha ricostruito le vicende storiche appunto dell'Istria durante la fine della seconda guerra mondiale è stato introdotto nel pomeriggio di ieri dal suo collega fanese Marco Labate trasporto irregolare, sequestrati i due cuccioli e sembra strano che questo episodio sia accaduto proprio ieri quando è stato inserito nella Costituzione italiana è insomma un capitolo, insomma un provvedimento che riguarda appunto il rispetto degli animali controllo a carico di un ente di volontariato le violazioni per vaccinazioni e microchip sì, due cuccioli di cane trasportati in modo regolare li hanno scoperti e sottoposti a sequestro sanitario sabato scorso, gli operatori della Polizia Autostradale di Fano controllando un autocarro di nazionalità italiana adibito al trasporto animali intestato ad una organizzazione di volontariato che opera appunto proprio nell'ambito della tutela degli animali anche loro qualche volta commettono degli errori a Fossombrone, scuola, ambiente, patrimonio culturale ecco i temi per utilizzare i fondi del PNRR il Costituendo Ufficio Europa tra sei comuni metterà insieme per i bandi le professionalità degli uffici tecnici gli obiettivi dell'Ufficio Europa saranno quelli della edilizia scolastica con particolare riferimento alla costruzione di nuove strutture il miglioramento ambientale tramite l'organizzazione di centri del riuso la valorizzazione dei parchi storici e dei borghi efficientamento energetico e miglioramento della viabilità urbana appunto qui saranno impiegati i soldi, finanziamenti le risorse che arriveranno dal PNRR a Fossombrone a Mondolfo, scuola e cimitero entro l'anno ma tante opere in programma secondo gli intenti appunto del sindaco Barbieri anche per la tutela idrogeologica e la mobilità sostenibile entro l'anno dunque diverse importanti opere verranno concluse a Mondolfo a partire dall'adeguamento sismico della scuola media Fermi nello specifico il blocco B per un importo di 1 milione 100 mila euro tempi pressoché simili per lavori di ampliamento del cimitero per i quali l'amministrazione comunale ha destinato 800 mila euro quindi due opere importanti strutturali che possono essere concluse grazie appunto alle risorse a disposizione invece a San Costanzo si apre una piccola voragine in centro storico all'incrocio tra via Mazzini e via Santa Lucia dove è stato posto uno sbarramento per motivi di sicurezza comunque la chiusura al traffico di via Santa Lucia all'esterno del nucleo abitato del Castello ha una durata, un carattere temporaneo ha sentito il parere favorevole dell'ufficio tecnico e della polizia locale che ha limitato la circolazione degli autoveicoli ovviamente per questioni di sicurezza vediamo anche la pagina di Senigallia città sorvegliata da 200 telecamere il sindaco cerca il supervigile high tech all'interno della polizia municipale si cerca un agente che dovrà coordinare la smart city ovvero un esperto in sicurezza digitale appunto per poter avere un maggiore controllo del territorio insomma ce n'è veramente bisogno di questo controllo perché Senigallia non è certo una località facile anche se il PD, il Partito Democratico dice questo non è il Bronx siamo un'isola felice e così si creano paure e tensioni ma in realtà qualche paura ha ragione di essere lo vediamo ogni giorno dalle notizie di cronaca che vengono pubblicate sulla pagina di Senigallia e anche oggi vediamo l'assalto dei vandeli ai giardini morandi cestini dei rifiuti e altalena rotti lancio di biciclette e via Zanella i teppisti hanno spaccato il semafa insomma episodi dequalificanti che non fanno onore a una città turistica appunto come quella della spiaggia di Velluto vediamo alla pagina regionale per quanto riguarda la sanità e vediamo che i contagi calano ora scendono anche le curve dei ricoveri mentre i contagi calano del 30% la saturazione delle terapie intensive torna nelle Marche sui valori di zona gialla e questo fa sì che il presidente Acquaroli insista sulla sua dichiarazione dicendo che il passaggio in zona arancione non è giustificato secondo lui è pretestuoso Acquaroli insiste le restrizioni dell'arancione sono inattuali rispetto alla realtà ha dichiarato e in realtà mentre sembra che la situazione sanitaria sia sanitaria migliori le Marche invece vanno in zona arancione da lunedì scorso cosa che non si spiega molto con il problema spostato al carattere generale riorganizzeremo il lavoro ma ritoccheremo i prezzi e questa è la pagina dei rincari dei rincari delle bollette dei rincari delle materie prime dei rincari del caro vita ristoranti e alberghi sono nella morsa degli aumenti non solo delle bollette ma anche delle materie prime c'è chi sceglie di aprire il locale solo nel weekend il sabato e la domenica per tutti il giro d'affari è calato di circa il 50% il settore della ristorazione vede aumentare la bolletta dell'energia da un range di 1500-1800 euro a cifra intorno ai 5000 euro addirittura quindi più che raddoppiato è il caso di un ristorante come il Polo Pasta e Pizza di Mario di Remigio oppure del ristorante Il Giardino di Paolo Biagiali sono due esempi che vengono evidenziati dal Corriere Adriatico per quanto riguarda le difficoltà della categoria il consumo dell'energia elettrica per ristoranti e bar è letteralmente raddoppiato noi accogliamo tutti i clienti e non chiediamo il Green Pass questo invece è un articolo di disobbedienza civile punto interrogativo forse no forse sì rincari e restrizioni al Caffè del Sole che va in onda appunto la disobbedienza civile di secondo poi le interpretazioni si parla di Urbino da poco più di una settimana davanti al Caffè del Sole in via Mazzini c'è una lavagna dove c'è scritto in questo esercizio si in questo esercizio si disapplica qualsiasi normativa relativa all'utilizzo o alla richiesta di Green Pass insomma non si fanno i controlli e la polizia i carabinieri hanno invitato i gestori dell'esercizio a cancellare la scritta ma ancora ieri la scritta appariva e qui è pubblicata appunto dal Corriere Adriatico Pesaro tuttavia spegnerà le luci contro il caro Bollette è una protesta avvallata anche dal sindaco Matteo Ricci un giovedì al buio Pesaro spegnerà le luci contro il caro Bollette il sindaco annuncia l'adesione del Comune alla iniziativa promossa da Lanci Emilia Romagna in calendario giovedì 10 febbraio alle ore 20 in quel momento la città resterà al buio e poi si parla ancora del recupero di San Benedetto con una brutta notizia non verranno impiegate le risorse del PNRR la Regione cambia idea c'è stato un voltafaccia da parte del Assessore regionale alla Sanità Salta Martini che aveva invece detto che questi fondi sarebbero appunto utilizzati per per restaurare per valorizzare questo grande immobile del San Benedetto di Pesaro adesso invece si fa un passo indietro ed è Biancani che insorge l'assessore il consigliere regionale del PD Biancani che evidenzia le vane promesse dell'assessore alla Sanità i tempi dei lavori quindi si allungano a dismisura vandalismi e spaccio in arrivo altre spy cam a Pesaro ieri discussione in commissione occhi elettronici nella zona del Mirafiore anche contro i tempisti dell'estate al mare saranno puntate le telecamere ormai le telecamere ci guardano dappertutto vengono aumentate sempre di più perché nonostante che gli occhi ormai vigilino sui punti più critici dei nostri centri urbani episodi di vandalismo oppure di delinquenza si ripetono ovunque insomma ancora maggiore sicurezza viene richiesta e a proposito dell'ordine pubblico vediamo in questa pagina dedicata alla cronaca due episodi uno riguarda la violenza sessuale sulla nipotina si tratta di un uomo straniero sulla quarantina accusato di avere palpeggiato più volte la figlia della nuova moglie del fratello un'accusa pesante emersa dopo la fine della relazione tra i due che la bambina ha voluto raccontare ieri davanti al giudice appunto nel tribunale di Pesaro e poi un episodio di lite tra due coniugi prende a calci la porta di casa dell'ex marito ma è stata assolta finisce nei guai un'altra donna per occupazione abusiva di una abitazione due episodi raccontati in questo articolo uno appunto una lite tra marito e moglie stavano lasciando lui era un ex e quell'altro invece per quanto riguarda la occupazione abusiva della casa appunto del coniuge un team di esperti e professionisti per affrontare l'emergenza siccità Ranocchi l'estate scorsa rifornire d'acqua ai comuni dell'entroterra è costato 716 mila euro è il direttore dell'ato Michele Ranocchi che evidenzia questo dato e poi ancora un articolo sulla salvaguardia del Pozzo del Burano l'obiettivo del centro di tutte le scelte il sindaco Piccini ci battiamo da 7 anni il sindaco Piccini di Cantiano vediamo ancora un altro articolo che riguarda Pesaro il tampone rapido in farmacia cancella la pil del molecolare in via Lombardia ridotta la mola di richieste per certificare l'avvenuta guarigione dei contagi insomma crollano i tamponi molecolari al drive di via Lombardia da quasi 300 a non più di 50 70 in media per ogni seduta ora per uscire dalla quarantena in molti vanno a fare i rapidi in farmacia le auto in attesa a lungo via Lombardia ora non ci sono più però insomma sono in difficoltà anche le farmacie ora chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino vediamo l'articolo che riguarda lo sciopero degli studenti sulla pagina di Fano seguito da quello dell'individuazione di due cani due cuccioli trasportati in modo regolare sulla autostrada poi vediamo ancora sulla sanità il problema della guardia medica comincia a interessare anche Fano e Mondolfo dei 13 dottori ne restano solo 4 la guardia medica verso la chiusura anche i territori di Fano e di Mondolfo come già avvenuto in altri comuni rischiano di perdere un presidio fondamentale saranno garantiti solo i weekend l'alternativa sarà il pronto soccorso insomma c'è un problema ormai di incompatibilità che la regione potrebbe sanare solo se volesse e il problema della guardia medica chiusa che è un che è un sicuro presidio per quanto riguarda le emergenze che possono capitare in tutte le ore del giorno in tutte le ore delle notte è un problema veramente grave che dovrebbe essere risolto risolto ma tutto dipende appunto dalla carenza di medici piano sociale strappo dei sindacati abbandoniamo i tavoli di lavoro ai ferri corti con il comune i sindacati l'aumentano di essere stati esclusi dalle politiche di settore ma il comune reagisce dicendo che questa è una scelta incomprensibile e poi vediamo che si sta dando l'addio al gabbiotto al pincio a quella struttura precaria che nasconde l'accesso dei sotterrani scoperti sotto il bastione del Nuti presto la realizzazione di un nuovo progetto finalmente dovrebbe essere eliminata quella bruttura che insiste in maniera poi precaria poi deturpata anche dai vandali sotto porta maggiore diteci dove rimpiazzerete 50 posti auto persi è stata la richiesta delle associazioni di categoria durante un incontro che si è svolto nella giornata di ieri con l'amministrazione comunale per l'arredo di piazza marcolini dove è stato confermato il taglio di 50 lecci insomma le categorie insistono vogliono sapere soprattutto anche 50 posti auto i lecci erano molti di meno erano 7 mi sembra ho sbagliato il numero però 50 sono i posti auto è quello che sta più 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 caro alle associazioni di categoria cioè quello dei parcheggi dove verranno recuperati i parcheggi che verranno eliminati in piazza marcolini non si punta sulla pedonalizzazione senza prevedere delle compensazioni hanno dichiarato appunto i rappresentanti di categoria poi vediamo un episodio di cronaca avvenuto a pergola schianto in auto contro un terrapieno donna sbalzata dall'abitacolo è grave l'incidente avvenuto a pergola ferito anche il 33enne che era al volante e poi ad urbino vediamo che c'è un depauperamento della popolazione specialmente in centro storico abitanti in fuga in centro meno di mille negli ultimi trenta anni il comune è passato da oltre quindicimila a nemmeno quattordicimila residenti incide anche il calo di nascite qui vediamo in questa tabella il calo degli abitanti e nel centro storico erano 1522 nel 1991 nel 2001 erano passati a 1272 nel 2011 a 1116 e ora nel 2021 sono scesi sotto i mille attestandosi a 936 unità molti giovani si sono trasferiti a Ferminiano e chi ha l'alloggio preferisce affittarlo agli studenti a a Ferminiano invece si sta preparando per il paglio della rana che verrà recuperato sembra quest'anno dopo la pausa dell'anno scorso si riparla del paglio è quasi certo che si possa fare è una manifestazione tradizionale risalente a quattro secoli fa dopo due anni di blocco per il covid gli organizzatori stanno preparandosi all'edizione del 2022 e se non avete mai visto il paglio della rana a Ferminiano vi consiglio di andarlo a vedere se verrà organizzato perché è una manifestazione molto coinvolgente soprattutto ovviamente per i fermignanesi e ancora a Sasso Corvaro al privato anche l'emergenza l'ambulatorio di assistenza primaria gestito dalle guardie mediche ultimo baluardo di sanità pubblica potrebbe passare a Villa Montefeltro e vediamo in questa pagina di Pesaro invece due funerali che si sono svolti nella giornata di ieri il primo quello di Umberto Levi l'avvocato l'avvocato che aveva un grande carisma e una grande capacità professionale nel difendere i propri clienti gli imputati e quell'altro funerale invece è stato celebrato per Marcello Di Bella grazie papà Marcello perché ci ha insegnato ad evitare le scorciatoie dei furbetti è stato l'ultimo saluto nella camera mortuaria di Muraglia la commemorazione dei figli due fatti di cronaca mano amputata condannato il titolare successe alla lanaflex nel 2015 fu ferita un'operaia croata cui l'arto fu riattaccato in seguito un anno e quattro mesi al principale per lesioni gravissime e poi restituisca 2.500 euro ma il gioco non riesce al truffatore un fantomatico dottor Ferrari chiedeva alla rappresentante di un centro per l'infanzia di ridare la cifra ha processo e assolta la sua complice e vediamo ancora un'altra notizia sulla pagina di Pesaro del resto del Carlino ancora si parla del San Benedetto la Regione niente soldi Ancona fa sapere che non ci sono stanziamenti per il recupero Biancani del Partito Democratico critico e il Vassartini di Tocca il Mur è delusa formare un tavolo perché si parla di un angolo importante per tutta la città è un obiettivo importante e urgente Concludiamo la nostra segna stampa con le notizie di sport vediamo che la Vis si prepara a sostenere lo scontro con la Fermana i Biancorossi devono rialzarsi con la brutta sconfitta casalinga di domenica scorsa mentre i Canarini dovranno distaccare la zona rossa dei play-out distante un punto quindi entrambe le squadre Fermana e Vis Pesaro hanno ragione di conseguire il risultato per la prossima partita e vediamo invece per quanto riguarda il Fano Calcio c'è una novità nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia che il presidente avrebbe rinunciato il presidente russo avrebbe rinunciato alla gestione della squadra se ne sarebbe andato invece ora ci ha ripensato Alma patron russo non lascia anzi rafforza il presidente Granata costituisce un comitato esecutivo locale in grado di colmare le lacune della sua presenza in città insomma il clima di affetto che ha circondato il presidente dopo le ingiurie che sono state espresse da qualcuno di qualche tifoso sulla strada e sui muri del stadio Mancini ebbene grazie a queste attestazioni di solidarietà il presidente ci ha ripensato e ha detto che forse la sua assenza dalla città di Fano avrebbe potuto nuocere alla squadra e per questo ha istituito un comitato esecutivo che dovrà rappresentarlo quindi la squadra la squadra insomma va avanti con il benestare del suo presidente voglio andare avanti fiducia anche allo staff allo staff tecnico ha dichiarato e concludiamo con il basket VL ora è certo Camara Milano non ci sarà la società fa un po' di chiarezza sulle condizioni di Gora il problema è serio ma non grave è stato detto dopo l'Armani sosta fino al 6 marzo prossimo e noi invece facciamo la sosta adesso ci fermiamo concludiamo la nostra rassegna stampa e vi diamo appuntamento a domani alle ore 7 e ovviamente per le notizie del giorno vi invito a guardare Fano TV occhio alla notizia questa sera alle ore 20 e 30 un ETG condotta da Simona Zonghetti questo è tutto per il momento buona giornata a risentirci e grazie a tutti a tutti Grazie.